Mi dispiace, Ferna, è il maiale più gracile. No, non è giusto. Lui che colpa ha se è nato piccolo? Attento. Se nascevo piccolo, uccidivi anche me? Certo che no. Sta tranquillo, Will, perché qualcosa scogiteremo. Aspetta, Fer, torna qui! È fuggito? Fuggito, fuggito! Corri, scappa, maialino! Qui, bello! Qui, 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 qui! No! Sei fuori. Ecco, ora sei dentro. Ciao, come va? Oh, vuoi giocare? Io non gioco. Io rosicchio, spio, mi nascondo, mangio. Questo faccio. Dopo io, dopo io, dopo anch'io. Povero porcellino, non hai idea di cosa l'aspetti. Di che stai parlando? Che tengono in serbo te per cena. Gli uomini amano i maiali. Di più la loro carne. La cosa è molto imbarazzante. Ma è giusto, io voglio vivere. E vivrai. Un ragno? Chiedimelo lontano! I miei aspetti. Mi chiamo Carlotta. Carlotta a Cavatica. Ciao, non avevo mai conosciuto un ragno. Che cosa fai? Faccio colazione. Mangi le mosche? No! Bevo il loro sangue. Ah, per favore non farmi del male. Ti faccio una promessa. Salverò la tua vita. Ma tu sei un ragno. Come farai a fermarli? Con le parole giuste puoi cambiare il mondo. In un normalissimo fienile sta per accadere un fatto straordinario. Wow! Signor Duckeman! No! Chi altri può aver scritto quelle parole? Ecco a voi l'atomico porco! Nascerà una grande amicizia. Passi troppo tempo in quel fienile. Tutti i miei amici sono là. Saranno necessari i sacrifici. È un problema che ci riguarda tutti. Tu sai che io sono qui solo per il cibo, vero? È tutto per un maiale. Ma avverrà il miracolo. Dov'è il regno che l'ha tessuta? L'abbiamo cercato ovunque senza trovarlo. Non so come, ma è accaduto. È in un'epoca in cui non assistiamo a molti miracoli. Non so che cosa sia, ma mi piace! La tela di Carlotta. Il sorcio è felice. Prossimamente al cinema.